Senta Mariella, in piazza Quiavarese contro un flash mob contro la violenza sulle donne, un'iniziativa davvero importante alla quale probabilmente ne seguiranno altre. Ci spieghi un attimo. Allora, con il mio circolo dell'ambiente e della cultura tricolore di cui sono presidente, abbiamo constatato che le lotte contro la violenza sulle donne in Italia vanno man mano scemando, mentre dall'altra parte sono in aumento gli stupri, le violenze eccetera. Per cui questo è il primo dei flash mob che noi andremo a organizzare in vari luoghi di Varese messi in mente. Tra un flash mob e l'altro noi terremo destra l'attenzione organizzando degli eventi che nella maggior parte dei casi coinvolgeranno anche la cittadinanza e con questo speriamo di fare un buon servizio per le donne abbandonate, sole e magari spaventate.